radio.it o sticino alla voce oggi con noi il professor gianfranco santovito ciao gianfranco benvenuto ciao ciao allora docente un ipd di fisiologia del dipartimento di biologia sei qui perché partirai per non sono ferie assolutamente è lavoro però il posto è molto esotico va in antartide con una missione a cui partecipa anche l'università di padova certo l'università di padova ormai da anni è un punto fisso nelle missioni antartiche diversi ricercatori di diversi settori la biologia senz'altro ma anche la fisica e le scienze della terra sono da sempre presenti nelle missioni qui siamo arrivati alla trentatresima missione quindi pluriennale la presenza è già da un po che si va a fare qualche giro assolutamente assolutamente è la mia sesta missione la prima è stata nel nel lontano 98 sei un veterano ormai assolutamente come come funziona un po tu cosa andrai a fare nello specifico perché ci raccontavi un po fuori onda che si fanno tantissime cose durante queste missioni e la base operativa cui vi appoggerete dove starete ospita anche diverse professionalità assolutamente è la base in base noi andremo a fare attività soprattutto di campionamento cioè andremo a prelevare degli organismi presenti nelle acque antartiche organismi come pesci molluschi crostacei e anche alcuni microrganismi come protozoi e microalghe oltre a questa attività di campionamento significa che noi preleviamo alcuni esemplari di diverse specie li impacchettiamo per dire e li spediamo in italia dove possono essere fatte numerose analisi ma vengono soprattutto fatte degli studi come si dice in vivo cioè con degli organismi vivi che vengono mantenuti negli acquari della base e vengono fatti degli esperimenti nello specifico gli esperimenti a cui ci dedicheremo sono esperimenti di cambiamento di temperatura infatti l'obiettivo principale del progetto in cui sono inserito è lo studio degli effetti dei cambiamenti climatici i cosiddetti global warming con lo scopo di verificare se effettivamente come noi speriamo gli organismi antartici siano in qualche modo attrezzati a sostenere i grossi cambiamenti che si stanno verificando in tutto il mondo e coinvolgeranno quindi in parte già coinvolgono anche l'antarca l'idea è un po capire come fanno loro per vedere se possiamo imparare qualcosa anche noi oppure innanzitutto è vedere e fare degli studi previsionali per vedere le possibilità di sopravvivenza di questi organismi perché ovviamente l'ecosistema antartico è un ecosistema molto importante non è un ecosistema totalmente isolato perché noi sappiamo ad esempio che in antartide vanno ad alimentarsi le balene che poi vanno a riprodursi poi in altre stagioni ad esempio nel messico e sappiamo che le balene si alimentano di gamberetti di krill che sono appunto dei gamberetti antartici se un giorno sparissero questi gamberetti cosa farebbero gli equilibri cambierebbero assolutamente quindi è importante per noi avere la possibilità di prevedere cosa potrebbe succedere in futuro ovviamente per attuare delle politiche tali per cui si possa in qualche modo ostacolare questa avanzata delle alte temperature e bloccarle non dico sul nascere ma quasi insomma tamponare perché ormai qualche danno purtroppo l'abbiamo già fatto queste emissioni sono importanti come dicevi tu anche dal punto di vista politico no perché sembra che questi ricercatori vada sempre là a farsi il giro star due mesi non so quanto starete ma poi magari ce lo racconti invece poi è proprio l'output o il tipo di conoscenza che si mette a disposizione che è fondamentale no perché senza dati insomma si fa fatica a prendere decisioni certo certo questo sicuramente le scelte politiche si possono essere guidate da qualunque cosa come anche le ricerche scientifiche molto particolari che hanno una ricaduta applicativa possono derivare da una ricerca di base che riguarda ad esempio la conoscenza della fisiologia di questi organismi organismi che vivendo in un ambiente particolare estremo potrebbero magari trovare una loro collocazione anche in pianeti extrasistema solare dove magari le condizioni potrebbero essere molto simili a quelli stiamo mettendo le mani avanti Gianfranco perché dopo l'antartide vuole andarci a fare un giro e come viaggi marlo non sarebbe male senti tu da da veterano dell'antartide ci racconti un po come è cambiato nella tua percezione se è cambiato l'ambiente l'ambiente con cui si lavora le condizioni queste cose beh l'ambiente è cambiato sicuramente l'ambiente di lavoro intendo 19 anni fa quando ho fatto la mia prima spedizione le possibilità tecnologiche che che erano presenti in base erano molto molto limitate io ricordo ancora i collegamenti via posta elettronica che si facevano erano molto limitati in termini di kilobyte sono arrivato sì 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 noi per comunicare con il posto di lavoro per non dire con la famiglia avevamo a disposizione un numero limitatissimo di kilobyte si parlava di 20 kilobyte 25 kilobyte che oggi ci fanno sorriso si impossibili con i 30 giga che ci sono in giro e alla settimana no al giorno e quello era un qualche cosa bisognava gestirsi di un po' sconveniente diciamo oggi è tutto molto cambiato oggi c'è il collegamento internet la posta elettronica non ha delle limitazioni ci sono collegamenti skype si è fatto un passo in avanti rispetto invece all'ambiente proprio fisico tu hai visto cambiamenti perché poi questa cosa del cambiamento climatico dei ghiacci che si sciogliono delle immagini anche apocalittiche un po che si vedono ci sono non mi dispiace dirlo ma ci sono ci sono io ricordo alcune spedizioni abbastanza recenti nelle quali eravamo insieme dei colleghi a campionare in laghi all'interno del territorio sulla terraferma laghi derivanti dal discioglimento dei ghiacci più di una volta essendoci già stati avendo la posizione gps del luogo siamo arrivati con l'elicottero e il lago non l'abbiamo trovato più e non si parla di piccole pozzanghe si parla di laghi di alte estensioni l'ultima volta poi è stata clamorosa allora antartide ghiacciai che dall'interno del territorio arrivano fino al mare ci si immagina quindi acqua dolce ma allo stato solido beh nei pressi della base la scorsa rispedizione cioè 2013 2014 abbiamo trovato una cascata di acqua liquida che è bella da vedere però un po più preoccupante dal punto di vista degli output senti Gianfranco ci saranno anche dei tuoi colleghi che verranno con te che parteciperanno allo studio sono Fabio De Pascale e Chiara Papetti loro di cosa si occuperanno ti aiuteranno in questa cosa hanno altri ambiti sono sempre un IPD anche loro naturalmente certo sono due colleghi del dipartimento Chiara Papetti anche lei è una veterana anche se non è mai stata nella base italiana Mario Tuchelli dove andrò io lei ha la sua terza missione però il suo lavoro non è lì nel mare di Ross ma è diciamo dall'altra parte dell'Antartida in penisola antartica e nel mare di Wedel lei è inserita in un progetto di cooperazione internazionale e farà una crociera oceanografica con la Polenstern che è una nave oceanografica tedesca e si occuperà di essendo inserita in un altro progetto si occuperà di cose diverse più rivolte alla conservazione diciamo all'ecologia degli organismi soprattutto pesci per capire le dinamiche di popolazione che si stanno verificando anche ovviamente in risposta ai cambiamenti climatici noi pensiamo che la penisola antartica essendo la propagine dell'Antartida è più vicina agli altri continenti è molto più a contatto immagino quindi subisce maggiormente gli effetti del riscaldamento globale e può essere sito di chiamiamole invasioni si parla proprio di specie invasive da parte di altri organismi che vengono da più a nord quindi lo studio è quello il collega invece Fabio Fabio di Pascale invece è un neofita quindi è alla sua prima spedizione verrà anche lui in base Mario di Zucchelli ma nel terzo periodo quindi nel diciamo gennaio dell'anno prossimo e adesso lui sta facendo l'addestramento significa che mettono in frigo praticamente quasi gli aspettano due settimane di addestramento la prima settimana sull'Appennino Tosco Emiliano a Brasimone dove seguirà dei corsi teorico pratici sulla base sulle attrezzature su gli impianti che sono presenti in base sul primo soccorso sull'antincendio che uno dice ma antincendio col freddo che incendi possono verificarsi in effetti invece il rischio di incendio è il rischio più grosso che si può avere in Antartide in quanto l'Antartide è un posto estremamente secco l'umidità è inferiore perfino al deserto del Sahara perfino a quella della pionura padana è molto inferiore e lui dici cosa si occuperà invece nel suo campo di ricerca? lui si occuperà invece di un progetto che ha delle ricadute molto più biotecnologiche praticamente andrà a studiare dei microrganismi, dei batteri studiando le capacità riguardo la produzione di Omega 3 sappiamo che gli Omega 3 sono delle molecole che sono molto importanti per la salute dell'organismo nostro e anche degli altri animali e la produzione di Omega 3 è una produzione particolare perché richiede il freddo gli Omega 3 si degradano facilmente alle altre temperature quindi la produzione di queste molecole richiede basse temperature e lì credo che ce ne siano chi meglio dei batteri antartici può produrre a basse temperature questi tipi di molecole e quindi ci raccontavi prima che si fanno tante cose diverse in questo continente che è praticamente l'Antartide ti auguriamo in bocca al lupo per la missione magari ci sentiamo quando torni, quando tornate così ci raccontate come è andata speriamo ci siano buone notizie dal punto di vista scioglimenti e cose varie in bocca al lupo e buon viaggio grazie, crepi il lupo grazie 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 grazie